Pink Barrier, Roma Calcio Femminile si scontrano nel big match della 22esima giornata del girone D della Serie B, una partita che vale una stagione intera perché la Roma ha tre punti di vantaggio proprio sulle baresi a 90 minuti dalla fine del campionato. Basta quindi un punto alla formazione di Mr. Seleman per conquistare la promozione della massima serie. Le ragazze baresi di Mr. Dermilio invece hanno bisogno solamente dei tre punti per portare le giallorosse ad uno spareggio che avrebbe del clamoroso. Arbitra il signor Castellone di Napoli, gli assistenti Pasquale e Vincenzo Vitobello. Prima occasione subito per la Pink che parte fortissimo, la punizione di Ceci, Casaroli respinge male, il pallone rimane lì, poi incredibile la respinta sulla linea da parte di un difensore della Roma e azione che sfuma. Ancora Pink, il passaggio in profondità, libera per un attimo la difesa della Roma e poi la conclusione dalla media distanza da parte di Manno, la respinta di Casaroli. Ancora Pink che insiste con Parascandolo che vince il contrasto con un avversario, cerca lo spazio per il traversone, alla fine lascia a Soro la conclusione ancora di Manno, molto attiva. Si è liberata dalla marcatura di Morra, qui rivediamo la disperazione della giocatrice della Pink. Ancora le Baresi in avanti con Bassano, Casaroli fa il pasticcio e Manno porta in vantaggio la formazione di casa. Al minuto 16 la rete di Noemi Manno che va ad esultare con la sua panchina. Rivediamo qui il primo errore di Morra che lascia passare Bassano, bello poi il sombrero, qui Casaroli. Combina il patatrack e per Manno è un gioco da ragazzi appoggiare il pallone nella porta ormai sguarnita. 1-0 per la Pink che è così legittima, una giusta supremazia. La risposta della Roma è in qualche lancio lungo, qui vediamo una punizione battuta da lontanissimo e qui rischia tantissimo Novellino che addirittura ha cercato di fare autogol. Questa è la grinta della nipote del famoso allenatore. Ancora Roma con Proietti, il calcio di punizione, il pallone rimane lì con Lore che ha cercato la conclusione poi una carambola impazzita e alla fine Aprile si ritrova il pallone fra le mani. Sui calci piazzati è pericolosa la formazione di Seleman, qui Aprile compie un autentico miracolo con un colpo di reni fantastico sulla punizione di Proietti. Questo è il volto di Aprile che probabilmente chiedeva un intervento da parte delle compagne. Ancora Roma che insiste dalla maggiora in poi, arriva all'improvviso Cortelli. Pallone alto sopra la traversa, però c'è stata una deviazione, ma finisce qui la prima frazione di gioco. 1-0 per la Pink, risultato sostanzialmente giusto. Al minuto 47 c'è il gol di Quazzico che al minuto 2 appunto della ripresa segna il 2-0 e mette una serie ipoteca sulla vittoria della Pink e soprattutto sullo spareggio promozione. La risposta della Roma con il dribbling da parte di Pittaccio, poi un errore incredibile da parte di Quazzico, Pittaccio si incunea in area di rigore. Arriva il Tegel da parte di Novellino. Rivediamo qui, netto, il fallo sull'attaccante della Roma che quindi può rientrare in partita. Parte Proietti dal dischetto, nulla da fare per Aprile e partita riaperta, un lampo da parte della Roma che così rientra a tiro del pareggio che varrebbe promozione diretta per la formazione di Seleman. Ma il Bari torna a spingere, punizione battuta velocemente, il cross di Ceci non arriva. Sul secondo palo il taglio da parte di una compagna, in questo caso è proprio Manno, quindi niente da fare. Transizione per la Roma con Proietti, sicuramente la migliore delle romane per Vukcevic. Appena entrata, conclusione debole, facile la presa per Aprile. Ancora Ceci, calcio di punizione sul secondo palo, non è arrivato l'intervento da parte di Strisciuglio. Pallone che si è perso sul fondo, numerosissima la presenza in tribuna qui al comunale di Bitetto. Espulso Mister D'Ermilio per proteste in un concitato finale con tante ammonite, tanti scontri e soprattutto tanti cartellini da una parte e dall'altra. Ma insiste la Pink con la Roma che lentamente si è sciolta. Bassano, il passaggio in profondità per Strisciuglio che evita l'uscita di Casaroli e poi appoggia in porta. 3-1, siamo nel recupero del secondo tempo e la Pink chiude definitivamente i conti. Rivediamo splendido il passaggio in profondità da parte di Bassano, qui forse ritarda l'uscita Casaroli. Strisciuglio l'anticipa con la punta e poi mette dentro il pallone del definitivo 3-1. Sarà quindi spareggio tra Pink Bari e Roma Calcio Femminile. Si giocherà su campo neutro e sarà una partita unica a 90 minuti ad altissima tensione come quelli che abbiamo vissuto a Bitetto. Una partita che darà sicuramente spettacolo e finisce qui. 3-1 in favore della Pink, una vittoria meritatissima per le ragazze di Dermilio che così possono continuare a sperare nella Serie A. Una battuta d'arresto invece pesante per la Roma che era arrivata davvero vicinissima alla promozione in Serie A. Chissà che questa sconfitta non possa portare delle scorie negative proprio nello spareggio decisivo.